Buongiorno in apertura in questa edizione del nostro telegiornale parliamo ancora delle conseguenze del maltempo. Oggi c'è stato l'atteso incontro tra il presidente eletto Marcello Pittella e una delegazione del Comitato Terre Ioniche. Una task force che coinvolga tecnici e dipartimenti competenti per una rapida mappatura dei danni ed una verifica nelle casse regionali sulla presenza di risorse da anticipare per situazioni di estrema emergenza. Queste alcune delle proposte emerse, vediamo quali sono le altre nel servizio di Teresa Fabbricatore. Primo di una serie di incontri che il presidente eletto Marcello Pittella vuole avere direttamente con cittadini e imprenditori danneggiati dalle alluvioni. Il prossimo dovrebbe tenersi prima della fine dell'anno. A questo si aggiunge la necessità per la regione di esercitare una pressione costante sul fronte politico-istituzionale a livello centrale ed europeo. Anche se la partita fondamentale in termini di risorse economiche immediate si giocherà nella prossima conferenza Stato-Regione, non prima di aver ascoltato il presidente del Veneto. C'è una proposta che fa la regione Basilicata di rivisitazione dell'articolo 45 della legge 99 del 2009 che è sul famoso nota come bonus carburante ed è un emendamento di modifica che restituisce nella sostanza alla potestà delle regioni le risorse che le regioni stesse producono e che alimentano quel tesoretto in modo da consentire alle regioni sostanzialmente di avere quelle necessarie disponibilità economiche che in una fase come questa, per esempio di grande emergenza non solo sociale ma anche da dissesto idrogeologico per quanto è accaduto possano essere spese per i nostri territori. Il comitato Terraioni che è presente all'incontro annuncia una manifestazione a Roma per il prossimo giovedì ed invita ufficialmente il presidente eletto a partecipare. L'idea di mettere in campo velocemente un piano di lavoro che coinvolga intorno all'idea di un contratto di fiumi o delle foci i cittadini, le istituzioni e di territorio e di governo è una cosa che ci sembra adeguata. Faremo ancora una volta la nostra parte come sempre.